Andiamo a guardare insieme la collezione di She Glam ispirata alla sposa fantasma Quindi appunto ci sono tutti i prodotti a tema C'è anche questo, che carino Iniziamo dal primo piano dato che ve ne sono due Vediamo la palette Ma il pack, che carino, ormai She Glam è un brand veramente assurdo Soprattutto il rapporto qualità-prezzo è pazzesco Ma che cute con tutto il pizzo Questa è la palette, vabbè un po' halloweenosa, neri, blu, grigi Ci sta Poi abbiamo i lip balm Guardate Semi-trasparente, blu credo che cambi colore con il pH Ma la cura nel packaging Tre ombretti in crema Questo con il simbolo della farfalla è blu glitterato Questo è grigio Questo mi sembra veramente stupendo Non levo la plastichina che vi è all'interno per non rovinarli Le ciglia finte, molto extra L'illuminante, guardate che bello il pack Oddio Così E tre rossetti liquidi E tre rossetti